Azzanna il gatto dietro il collo e tenta di portarlo via, ma qualcosa per il lupo va storto e molla la presa. Destano un poca preoccupazione la crescente presenza degli animali selvatici nelle vicinanze dei centri abitati. Queste immagini sono state registrate una settimana fa dalle telecamere installate in una casa in località Madonna Ponte nella zona dell'aeroporto a Fano. Increduli i residenti che dopo cena hanno iniziato a sentire i versi disperati degli animali. Allora a quel punto mio figlio si apreva sul terrazzo e si accorge che c'era un lupo che attaccava, stava attaccando il mio cagnolino e allora ha cominciato a urlare un lupo, 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 lupo e questo qui è andato via, abbiamo acceso le luci, questo qua è andato via ma non con tanta fretta, sono abbastanza tranquilli. E la cosa, siamo rimasti così stupiti. Poi guardando le immagini vediamo subito che c'era prima di tutto un lupo che mi aveva attaccato e preso ripetutamente un mio gatto, tre gatti, un gattone fra l'altro anche molto robusto e l'ha preso e se lo portava via e in seguito a sua volta dalla madre di questo gatto, la gattina e il fratello. A quel punto si vede un secondo lupo che esce dalla siepe intanto all'altro gli sfugge la preda. L'hava portato, secondo me lo portava verso il suo rifugio dove avrà avuto sicuramente dei cuccioli. Ecco quindi il gatto è vivo per fortuna ma quello che fa pensare è la presenza dei lupi in un luogo così insomma popolato. C'è il garage lì, è successo tutto nel garage che è tutto in piano, voglio dire ma c'è il portone, passo lì insomma a due metri, non è che è attaccato a casa e sono pericolosi perché non hanno neanche paura perché nonostante che come si dice mio figlio l'ha visto subito urlato e lui poi quindi cerchi di fare più casino ancora, il cane che gli abbaiava, sti gatti che poi questo tranquillo si vede infatti anche dall'immagine, sì c'è un passo, il passo veloce è quello che aveva in bocca il gatto che stava scappando e andava via, se no attraversavano come se niente fosse. Grazie per la visione!